Se devi prendere un negozio, tu che è a Perugia, e non prenderlo più, perché ci sono problemi qua. Perché? Perché ci sono problemi. Eh? Eh? Perché? Perché ci sono problemi. Sono problemi? Sì. Quali problemi? Tu non prenderli e non ti preoccupare dei problemi che ci stanno. Pronto? Mi senti? Sì, mi sento, dimmi. Ma se tu non prenderlo in negozio. Perché? Per quale motivo? Perché se no, se no chiudi, il secondo giorno chiudi. Se no chiudi? Sì, chiudi se no, il secondo giorno chiudi.